Esercizi per il petto, semplici piegamenti, vi ricordo che si chiamano piegamenti perché sei in appoggio, non solo flessioni. Flessioni sono un'altra cosa, quando ti appoggi sono piegamenti. Sono esercizi che puoi fare sia rimanendo proteso che in appoggio sulle ginocchia. E' importante tenere la posizione della schiena sempre corretta, non troppo il bacino retroverso, neanche troppo il bacino retroverso. L'appoggio delle mani è importante perché più allarghi più lavorano i pettorali e meno lavorano i tricipiti, più stringi più lavorano i tricipiti e meno lavorano i pettorali. Fermo restando che penso che sia la via di mezzo la migliore perché se allarghi troppo carichi troppo sulle spalle, se stringi troppo carichi troppo sui tricipiti. Questo sempre dipende da che segmenti tu hai, se sei di leve lunghe usa il metodo che faccio io, in appoggio sulle ginocchia, larghezza spalle, arrivi con la testa a terra e risali. Con questo tu fai esercizi per il petto basso, quindi se ti alzi con le gambe un pochino più su, rimanendo sempre col piano d'appoggio così, lavora la parte un po' più alta del petto. Ma fate sempre attenzione alla schiena, se ne fai 3 serie da 20 è ottimo, un esercizio che puoi fare a casa tranquillamente. Ciao!